Il Parma si rialza subito dopo il pesante KO subito sulla sponda giallorossa del Tevere, lo fa con la fierezza quasi maradoniana, accogliendo nella prima giornata senza il Pipe d'Oro la sua prima vittoria esterna. Fa tutto il Gervinio che sdradica difesa e speranze genuane. Seconda doppietta per lui dopo quella al Neazza contro l'Inter, Shumurodov, primo gol uzbeko nel campionato italiano, è l'ultimo ad arrendersi per un griffone ormai sull'orlo del Baratro. Inizione di fiducia per il Parma che torna alla vittoria, l'ultima era datata 4 ottobre contro il Verona.